Buongiorno ragazzi, come promesso nella scorsa lezione oggi ci occuperemo di applicare ad un problema tutte le regole studiate nelle lezioni precedenti. Quindi se non ricordate la teoria vi consiglio vivamente di ripassarla cliccando qui se state accedendo da un computer oppure andando su Sculptun Channel se state utilizzando un qualunque dispositivo mobile. Allora, partiamo con un esempio pratico. Facciamo un problema su di voi ragazzi. Allora, per esempio, sì, Giovanna, Ferrari e Moretti. Il tema sarà il più classico, il peso. Prof, ma le sembra un argomento di cui trattare? È risaputo che parlare del peso delle donne è cattiva educazione. Ma dai, un esempio Giovanna, sono numeri a caso, non parleremo del tuo peso reale e comunque anche in tal caso non avresti nulla di cui vergognarti. Allora, supponiamo di sapere che Ferrari pesi 3 kg in più di Giovanna e che Moretti pesi 10 kg in più di Giovanna e che la somma del peso di tutti e tre sia 172 kg. Chissà dirmi quanto pesa Giovanna? Un sacco prof! Ah, basta spiritosaggini! Torniamo al problema. Per risolverlo possiamo utilizzare un'equazione. Il peso di Giovanna sarà proprio la nostra incognita x. Ferrari peserà quindi x più 3 e Moretti x più 10. La somma dei tre pesi, cioè x più x più 3 più x più 10, sarà quindi uguale a 172. Per risolvere la nostra equazione dobbiamo trovare qual è il valore di x per cui il primo membro è uguale al secondo membro. Come vedete alla lavagna la prima cosa da fare è riportare i nostri dati sotto forma di equazione, trovando 3x più 13 uguale 172. Nel secondo passaggio accomuniamo nel secondo membro tutti gli addendi senza la x per poterli addizionare. Ma ricordiamoci che per il primo principio di equivalenza e per le regole che ne derivano i numeri devono cambiare disegno quando passano da una parte all'altra dell'uguale. Ecco allora che più 13 diventa al secondo membro meno 13. Nel terzo passaggio più 172 e meno 13 possono essere addizionati. Dal momento che si trovano nello stesso membro dell'equazione. Quindi l'equazione si presenta come 3x uguale a 159. Quindi nel quarto passaggio applicando il secondo principio di equivalenza dovremmo solo dividere entrambi i membri per il coefficiente della x, cioè 3. 3 diviso 3 è uguale a 1 nel primo membro e 159 diviso 3 è uguale a 53 nel secondo membro. Il nostro risultato è quindi x uguale a 53, cioè il peso di Giovanna. Giovanna ma che davvero? O sai che pensavo di meno? Su dai smettiamola con questa storia. Voglio sapere se l'esercizio è chiaro o se vi è sfuggito qualche passaggio. È tutto chiarissimo prof. Stia tranquillo. E beh non avevo dubbi su di te Ferrari. Beh se nessuna domanda allora direi che possiamo finirla qui per oggi.